buonasera a tutti e ben ritrovati con un'altra sessione del trading club anche questa sera andremo a fare una grande panoramica su più settori su più titoli e proprio per questo vorrei partire subito alla grande con il nostro top trader Paolo Zambarberi che ci deve mostrare qualcosa dal punto di vista azionario e devo dire che in questi primi 45 giorni di trading club sicuramente le azioni sono quelle che ci hanno dato più successo quindi Paolo goditi il momento che tanto poi la ruota gira per tutti e dici un po' faccio un po' vedere cos'hai da mostrarci anche questa sera. Ciao Andrea grazie mille buonasera a tutti anche da parte mia abbiamo diverse operazioni diversi spread in macchina poi chiaramente le approfondiamo un po' meglio nella nella sessione di domani sera del laboratorio operativo voglio oggi riprendere un attimo il discorso da dove ci siamo soffermati ieri ovvero da one ok che era lo spread la combinazione che in quel momento ci faceva soffrire di più nella quale perdevamo se non mi sbaglio una cinquantina di dollari super giù all'incirca perché comunque vi ricordo sempre che siamo sempre ben protetti quando componiamo il nostro la nostra strategia. Ieri vi dicevo perdonate l'altro ieri erano usciti gli earnings ieri il titolo dopo anche insomma delle notizie comunque delle trimestrali dove davano dei buoni risultati dal punto di vista aziendale ha lasciato sul mercato circa un 3 per cento che è segnalato diciamo dalla quella da quella candela rossa che ha portato eh al di sotto della mediana delle bande di bollinger il il titolo eh che ora oggi però sta reagendo molto bene eh quindi si sta un po' riprendendo quello che è stata la chiusura del giorno precedente eh più o meno siamo intorno a un un e mezzo per cento oggi come come rialzo è una bella reazione questa perché eh vuol dire che a prescindere da tutto eh i diciamo le notizie degli earnings eh vanno a confermare un po' quello che dicevo ieri quindi la salute il benessa che diciamo un po' eh della società che stiamo analizzando e che abbiamo ehm comprato per quanto riguarda il nostro beta trading tra l'altro eh si trova sul livello interessante cioè il rimbalzo è eh avvenuto appunto su un supporto che eh già in passato avevamo segnalato ed era stato eh toccato più volte e eh nella quale aveva reagito in diversa maniera il titolo quindi eh sia come resistenza e sia come supporto in un secondo momento eh quindi questo bel rimbalzo assolutamente eh va a confermare la bontà dello spread dell'operazione che abbiamo in essere eh chiaramente ora eh ci aspettiamo un po' che anche Enbridge ovvero la società eh che abbiamo in combinazione con con OneOK ci dia magari un po' più eh di di come si può dire di speranza di di leggero ribasso in modo tale da allargare un po' quello che è il differenziale eh tra i i due titoli quindi eh volevo giusto rendervi partecipi un po' di di questa analisi in più eh ultima cosa soprattutto a livello grafico che eh molto presumibilmente nei prossimi giorni se non già domani eh magari venerdì possiamo ritrovare l'incrocio della MACD eh quindi segnale chiaramente rialzista con l'obiettivo assolutamente di rivedere il titolo dove l'avevamo lasciato nei nei giorni scorsi perché vi ricordo ancora che su questa strategia già avevamo preso una quarantina di dollari di profitto poi eh siamo rientrati in un secondo momento dopo gli earnings di Enbridge quindi eh l'obiettivo rimane sempre lì ovvero almeno eh rivedere il titolo intorno ad area 70 71 circa che assolutamente eh non sarebbe per niente male per la il nostro il nostro la nostra combinazione il nostro beta ehm altro titolo su cui mi volevo focalizzare oggi e questo lo mettiamo nel mirino eh per per una possibile operazione nei prossimi giorni ehm eh AT&T ehm che eh come probabilmente magari avete visto anche voi quest'oggi se amate un po' eh il mondo dei dei mercati soprattutto della parte azionaria io addirittura eh l'ho letto sul Corriere della Sera questo articolo poi mi sono informato ehm questo questo pomeriggio insomma su eh su varie notizie eccetera insomma eh che cosa è successo su questa società che eh l'anno scorso nel nel 2018 era ehm diciamo lì lì per completare una fusione con Time Warner ehm AT&T e Time Warner Verizon che è un'altra competitrice eccetera si occupano proprio del settore delle telecomunicazioni e delle comunicazioni in generale per quanto riguarda eh gli gli Stati Uniti quindi va un po' a intaccare anche il settore diciamo televisivo ehm cosa che è successo? Questa fusione nel 2018 non era stata confermata al 100% perché eh Donald Trump aveva diciamo avuto da che dire un po' su ehm un monopolio diciamo e l'addentrarsi in alcune barriere di business eh perché potevano andare a intaccare diciamo un po' quello che era appunto la diffusione della 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 telecomunicazione della comunicazione dal punto di vista eh degli Stati Uniti d'America. In realtà oggi l'antitrust ha eh confermato che l'accordo e la fusione si può fare perché con diciamo eh l'arrivo ormai a livello di business di nuove piattaforme in streaming dei di Netflix eh questo diciamo canale eh televisivo di telecomunicazione non va proprio ad intaccare a livello di di business di monopolio appunto questa questa sezione di mercato. Quindi eh Trump è stato oltrepassato dall'antitrust americana la fusione si farà nei prossimi giorni arriveranno un pochettino più notizie quindi insomma è un titolo questo da eh mettere nel mirino. Non da subito eh perché solitamente e storicamente quando una società va a acquisirne un'alta tendenzialmente nel primo periodo va un pochettino a ritracciare a livello di eh di trend grafico e di analisi tecnica eh ora troviamo comunque un titolo secondo me in una buona posizione e comunque già a livello grafico con dei buoni spunti operativi. Io francamente aspetterei un attimino eh magari rivedere il titolo anche in area intorno ai ventinove dollari e lì potenzialmente quando ci troviamo anche eh vedete in un'area dove anche qua ci troviamo di fronte ad un supporto piuttosto interessante eh quindi con la possibilità di rivedere in seguito l'accordo il titolo intorno a questi livelli potenzialmente a entrare a mercato in modo tale da eh a diciamo insomma prendere un buon prezzo per eh accedere appunto a questo a questo business e potenzialmente insomma andarlo anche a combinare con eh un altro tipo di società in modo tale da andare a creare quello che è il nostro il nostro spread con una società chiaramente simile e amica del eh settore. Eh tra l'altro eh a T come ci fa presente anche Francesco in chat è una società chiaramente molto capitalizzata stacca i dividendi quindi anche qua sarà interessante eh andare a magari fare questo ingresso eh prima di aprile che è la prossima al prossimo stacco diciamo della della cedola eh cosicché appunto di prenderci qualcosa in più fin da subito rispetto un po' al al diciamo una società che potenzialmente non paga nessun dividendo. Sì tra l'altro stacca dei mega dividendi perché sono quattro dividendi da cinquanta centesimi uno sono due dollari su un'azione che ne vale una trentina ecco in percentuale siamo sul sei per cento abbondante che non è non è assolutamente da da ridere come cosa ecco. No assolutamente quindi è sempre è sempre bello no andare a a a scovare diciamo queste queste società che comunque ci pagano in maniera passiva eh parecchi soldi e tra l'altro se magari anche Andrea ci va a mettere un un grafico sui cinque anni per farvi vedere un po' anche dovrà arrivata la società perché adesso noi la vediamo a trenta però comunque ehm nei suoi massimi era riuscita arrivare intorno a un 43 44 dollari se non mi ricordo male un po' come ecco più più o meno all'incirca siamo siamo lì insomma intorno ai 43 dollari diciamo quindi eh comunque come prospettive di crescita anche per eh per il futuro secondo me davvero può essere un buon titolo eh come vi dicevo adesso appazientiamo un attimino che così vediamo un po' eh che cosa succede con con questa con questa collaborazione con Time Warner e con con il mercato delle telecomunicazioni però assolutamente da da tenere d'occhio. Eh un altro titolo e qua sarà sempre contento Francesco che eh ultimamente diciamo stiamo scambiando o comunque anche nei prossimi giorni insammeremo un po' più idee sul mercato cinese eh anche per te Francesco guarda oggi volevo eh ho pensato a te volevo portarti anch'io qualcosa di interessante dal punto di vista della Cina ma chiaramente non solo per Francesco eh ci mancherebbe ma per ispirazione un po' a tutti voi e ehm la società in questione si chiama Antasports eh come ticker visto che si parla di mercato cinese andiamo con i numeri eh il ticker è duemila e venti quindi molto semplice anche da da ricercare eccetera il 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 titolo lo vedete tuttora eh dal punto di vista grafico con eh il diciamo il sovrappressione in modo tale da vedere un pochettino la sua analisi tecnica eh quello che è importante da da comunicarvi è eh sostanzialmente questo ovvero che il titolo batte quarantacinque dollari eh di Hong Kong quindi non sono dollari americani eh che eh tramutati diciamo in dollari sono intorno ai 5 e 73 dollari ho fatto prima il calcolo di cambio per informarmi un attimino eh quindi è un'azione potenzialmente che possiamo anch'essa tenere nel mirino eh questa mi riservo ancora un attimino di eh tempo per andarla a controllare e verificare ho già visto un po' i fondamentali è una bella azione ha delle buone prospettive di crescita eh pecca con i dividendi perché anche qua non ci siamo non non ci dà una una cippa di niente però eh pace amen perché qua andiamo a puntare sulla crescita eh futura quindi con anche qua un investimento sul lungo termine anche qua magari si parlerà di eh metterla nel nostro portafoglio per qualche anno addirittura quindi eh in molto interessante eh io ragionerei e stavo già pensando di ragionare dal punto di vista direzionale con questa azione quindi di non fare eh nessuna di uno spread nessuna protezione con un altro titolo eh amico del del settore ehm restiamo sul mercato cinese perché eh soprattutto in questi ultimi giorni e in queste ultime settimane ci vedo diciamo molta più opportunità di crescita per il futuro sperando che chiaramente Donald Trump non faccia il pazzo eh con quelli che sono chiaramente un po' gli accordi e i dazzi che ci sono con gli Stati Uniti però anche qua chiaramente cercheremo di eh differenziare un pochettino il tutto. Eh ultima cosa poi eh lascio la la parola al nostro Andrea eh riprendo sempre Nio per tenervi aggiornati perché anche oggi eh sta facendo un bel e un bel rialzino non non molla niente questa azione quindi ehm vediamo un pochettino adesso come portarci a casa anche un piccolo profitto. Io potenzialmente avevo anche in mente comunque di di tenerla qua all'interno del del conto perché comunque vi dicevo è una società che potenzialmente possiamo ottenere per per i prossimi cinque anni volendo. Quindi voi eh fate un po' chiaramente come come credete in base al vostro amore management se volete portarvi a casa questo bel profitto che comunque ormai eh si parlano anche di di soldini importanti qua. Eh la nostra il nostro obiettivo qua chiaramente di 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 dimostrarvi e farvi vedere comunque visto che il conto è comunque sulla prospettiva didattica ehm non c'è alcun problema noi la teniamo lì eventualmente magari visto che ne abbiamo duecento ne chiudiamo un centinaio e ragioniamo magari su eh su su quella quota però so che Andrea aveva in mente di di farci qualcosa quindi eh se vuoi prendere tu la parola e farci vedere magari anche un'operazione entrare anche al mercato guarda volentieri è è tutta tua Andrea. Sì ciao ciao Paolo e ben ritrovati a tutti anche se ho dato l'intro ma ero un po' un po' qua che ascoltavo ovviamente la parte di eh di Paolo sì perché sulle opzioni di Nio se andiamo a vedere un attimo vedete qui ho tracciato una linea non per fare il catastrofista ma ehm adesso vi sarà chiaro perché ho tirato questa linea che da dieci va a sei volevo far vedere un qualcosa per quanto riguarda eh l'option trader. Andiamo un momentino eh intanto Nio agli earnings a breve prossima settimana se non ricordo male quindi cinque marzo sicuramente adesso la volatilità è molto molto alta anche per questo però guardate un po' se andiamo ad aprile guardate un po' una cosa che salta subito all'occhio per chi lavora con le opzioni vedete questo lo dico agli amici opzionisti addirittura qui si può ragionare anche di opzioni naked qui sto parlando per chi eh non ha in questo caso Nio eh eh a mercato diciamo non ce l'ha in in piattaforma perché può essere interessante questo prezzo perché guardate un po' il prezzo eh medio al momento è di circa zero ottanta che cosa significa zero ottanta? Sono esattamente ottanta dollari quindi vendere un'opzione put su Nio a sette significa prendersi più o meno un'ottantina di dollari grazie all'altissima volatilità che si è creata in questi giorni. Il controvalore qual è? È lo strike cioè sette moltiplicato cento perché ogni opzione muove cento quote di azioni quindi significa prendere ottanta dollari su un controvalore di praticamente settecento cioè stiamo parlando più o meno di più dell'undici per cento in cinquanta giorni. Perché fare un'operazione di questo tipo? Perché nel caso in cui per l'appunto Nio dovesse effettivamente stornare clamorosamente fino a sette noi comunque entriamo ad un prezzo eccezionale per quanto riguarda questo titolo. Nel caso in cui invece non dovesse stornare fino a sette ci portiamo a casa praticamente un rendimento dell'undici per cento in cinquanta giorni senza diciamo doversi neanche sbatterne più di tanto ecco passatemi il termine. Questo per chi non ha Nio diciamo in piattaforma. Per chi invece ce l'ha io consiglio due possibilità diciamo una di mettere a rendimento l'investimento già fatto ovvero adesso il titolo quota all'incirca dieci vedete che se noi andiamo anche a dodici sempre a cinquanta giorni siamo un venti per cento rialzo quindi sicuramente siamo ancora più felici se riusciamo a portare questo titolo dai sette e mezzo ai quali siamo entrati ai quali è entrato Paolo portarlo fino a dodici però se noi vendiamo delle call a dodici vedete incassiamo tra i 60 e 65 dollari che significa un rendimento del 5 per cento in circa cinquanta giorni questo perché perché nel caso in cui il titolo dovesse ritracciare un poco ci può anche stare adesso non è che deve crescere ogni giorno del 10 per cento noi comunque avremmo un cuscinetto vedete di una di un cinque per cento circa quindi anche se ritraccia del 5 6 per cento a noi la cosa non ci tocca perché abbiamo questo cuscinetto con le call se invece il mercato dovesse salire o esplodere rialzo ci tappiamo tra virgolette il profitto nel senso che il nostro profitto si blocca a dodici però la cosa ci interessa poco perché ovviamente poi se il titolo effettivamente arriva a dodici allora lì abbiamo la scelta o ci facciamo assegnare e mandiamo diciamo a concludersi l'operazione oppure magari togliamo le call a dodici in perdita e ne vendiamo delle altre a quattordici quindi si può anche rinnovare poi la strategia tra l'altro anche luca dice e andare a 16 giorni proviamo a vedere addirittura a 16 giorni vedete ci sono altri prezzi sono ovviamente più bassi però guardate comunque a 16 giorni sempre vendendo 12 non paga affatto male perché paga più o meno una quarantina di dollari 45 su un controvalore di 1200 si sa comunque parlando tre e mezzo per cento in soli 16 giorni quindi c'è un'altissima volatilità con le opzioni qui secondo me ci si può divertire ecco vi invito quantomeno a prenderle un poco più in considerazione anche per le prossime settimane ovviamente noi siamo in una situazione ottimale perché perché avendo 200 azioni chiaramente abbiamo due opzioni da spendere un'ulteriore cosa che volendo si può fare è bloccare tra virgolette il profitto vendendo delle call in demani questa è un'ultima alternativa forse un pochettina più complessa dal punto di vista concettuale ma per chi è pratico diciamo di opzioni non dovrebbe assolutamente essere nulla di così problematico quindi le situazioni ci sono io in questa fase forse forse mi limiterei a vendere delle call per provare ecco a seguire poi il titolo di solito si vince la lotteria quando il titolo sale ma non abbastanza ad arrivare a 12 perché a quel punto poi si guadagna sia dal movimento del sottostante che anche dal premio dell'opzione quindi questo è un po così guardando rapidamente le alternative per quanto riguarda nio con le opzioni poi paolo se non c'è altro da aggiungere andrai avanti con la nostra con la nostra sessione parlando anche di un'altra situazione questa come sempre siete io porto sempre brutte notizie o meglio cerco di tenervi diciamo a contatto con quello che sta succedendo sui mercati ieri proprio ieri leggevo svariati analisti quindi analisti quotati diciamo dal dalla dalla finanza che si sono stati chiamati ad esprimersi sul quando secondo loro ci potrebbe essere la recessione perché prima o poi ci sarà una recessione questo è statistico ovviamente tutti questi grandi studiosi economisti hanno dato la loro idea diciamo che solamente 10 per cento pensa che possa già iniziare quest'anno la maggior parte degli intervistati quindi più del 40 per cento si concentra diciamo sulla possibilità che possa avvenire nell'anno prossimo quindi se dobbiamo affidarci al passato alle cose che abbiamo sentito in passato sicuramente non sarà l'anno prossimo quindi o quest'anno o 2021 per quanto mi riguarda vedendo come come lavorano poi certi istituti comunque al di là delle battute diciamo questa situazione un po nell'aria perché comunque il mercato continua a crescere giustamente tutti iniziano a guardarsi in faccia a dire ok quando crollerà tutto non è detto che crolli assolutamente un indicatore diciamo un po negativo che c'è stato nelle ultime settimane leggevo in a riguardo leggevo a riguardo della difficoltà di circa 7 milioni di americani sapete che noi guardiamo sempre là perché comunque economia più importante la difficoltà di 7 milioni di americani di pagare le rate non del mutuo in questo caso ma delle macchine quindi cioè praticamente ci sono più di 7 milioni americani che hanno un ritardo superiore ai 90 giorni ovviamente non stiamo parlando diciamo di una situazione grave come era quella dei mutui su prime perché stiamo comunque parlando anche di beni diversi è evidente che comunque una casa un bene differente rispetto a una macchina certo è che questo è l'ennesimo diciamo segnale di scricchiolamento però noi non dobbiamo assolutamente essere preoccupati perché comunque sia vedete che vi stiamo proprio illustrando i mercati insegnando a lavorare sia con un mercato a rialzo che con i mercati a ribasso diciamo che la notizia più clamorosa non è tanto questa che forse più una pillola statistica la notizia più clamorosa arriva invece della gran bretagna dove per l'appunto il 31 marzo fondamentalmente la gran bretagna se ne deve uscire dall'unione europea ma uscire con tutti poi i decreti attuativi del caso ad esempio se si vuole andare in gran bretagna dopo il 31 marzo teoricamente dovremmo avere il passaporto ci saranno dei dazzi per quanto riguarda le merci sia l'entrata che un'uscita quindi come qualunque altro stato diciamo al di fuori dell'unione europea abbiamo visto le grandissime difficoltà del primo ministro mai a farsi passare diciamo l'accordo all'interno del suo parlamento tanto che l'accordo non è passato adesso è iniziato a vociferarsi a farsi largo la possibilità che la gran bretagna esca dall'unione europea non a marzo ma a marzo del 2021 quindi fra più di due anni che avrebbe un po' diciamo insomma senza usare mezzi termini sarebbe un po' una mezza pagliacciata perché comunque sono già passati due anni e mezzo quasi tre sono ancora lì aggiungere altri due ovviamente vorrebbe anche dire insomma limitare secondo me diciamo il potere popolare comunque c'è stata una votazione e la decisione è stata presa in tutto questo abbiamo visto dei movimenti molto forti per quanto riguarda la sterlina che volevo guardare attraverso l'euro prima guardiamo con euro punto gbp che è l'euro sterlina guardiamo poi i movimenti che ha avuto in questi ultimi mesi eccoli qua vedete questo sono i cinque anni qui vedete quando c'è stata la questo è pre brexit vi faccio vedere anche i dati pre brexit eravamo in area 77 78 poi vedete che in pochi giorni è arrivato fino a area 0 90 diciamo che poi 90 non li ha più superati e negli ultimi anni è rimasto sempre questo livello che va da 0 86 a 0 90 a 0 91 vedete a parte un paio di giorni che non considero neanche eccolo qua a 0 91 quindi ha visto ha avuto un andamento molto molto laterale l'euro nei confronti della sterlina oggi giornata importante perché guardate non capitava diciamo dal maggio 2017 il titolo ha rotto a ribasso quindi significa che la sterlina sta prendendo decisamente forza nei confronti dell'euro quindi ha rotto a ribasso questo livello di 0 86 più interessante invece da un punto di vista grafico la situazione per quanto riguarda invece la sterlina contro il dollaro ok eccolo qua sempre a cinque anni anche qui vedete invece sterlina contro dollaro come vedete quotava più o meno 1 42 1 e 45 prima del della brexit vedete in pochi giorni è sceso fino a 1 e 20 poi si è ripreso guardate un po verso aprile dell'anno scorso nella primavera estate l'anno scorso tornando quasi in pare livelli pre brexit nuovo crollo e poi guardate la giornata di oggi stringiamo diciamo sull'anno nella giornata di oggi è andato sta andando a riprendersi diciamo i massimi praticamente da giugno dell'anno scorso fino ad oggi cioè in area 1 33 e mezzo 1 34 e così via chiaramente un ritorno 1 e 35 potrebbe far pensare anche a poi una nuova esplosione fino a questi livelli dal punto di vista delle opzioni può essere interessante lavorare non tanto con gbp ma anche con su etf che è fxb per un'operatività eventualmente rialzo però per tutto questo abbiamo qui il nostro stefano perché gli ho chiesto di farci una piccola analisi anche dal punto di vista volumetrico sicuramente gli ultimi giorni volumi ci sono stati sulla sterlina però per capire se ecco questa sensazione cioè che il titolo possa effettivamente ripartire è anche coadiuvata da una situazione basata esclusivamente sui volumi non sull'analisi fondamentale quindi ti lascio la parola stefano ciao andrea buonasera e benvenuti a tutti anche da parte mia si chiudiamo questa sessione sulla sterlina vi ho preparato sia i grafici su marzo che su giugno infatti per avere ovviamente un riscontro volumetrico non possiamo andare ad analizzare il forex che per definizione è un otc quindi non regolamentato quindi il mercati finanziari ci mettono a disposizione il relativo future che invece su globex gira sui mercati regolamentati quindi ci permette di tenere un tracciato esattamente come avevo visto qualche settimana fa sull'euro per tutte le permesse che hai fatto andrea che mi sento assolutamente di condividere anche perché passo buona parte dell'anno diciamo oltre manica quindi al di là di quello che ci dicono i grafici non vi dico la frustrazione di chi in inghilterra ci vive ci lavora perché la situazione veramente la coprono bene ma c'è un'incertezza che ha bloccato gli investimenti negli ultimi anni grandi colossi che dovevano decidere se investire nel momento in cui si paventava una city su parigi su francoforte hanno iniziato già nell'attesa a bloccare quindi il rinnovamento la creazione di nuovi posti di lavoro e questo sicuramente è andato a penalizzare e adesso ci si trova a un mese di distanza esatto perché si parla della fine di marzo ancora con tutto da definire quindi questa situazione macroeconomica senza anche vedere i grafici a mio modestissimo parere al di là di investitore come il nostro caso che comunque avendo anche dei redditi e degli asset in base sterline quindi devono necessariamente difendere fosse un investitore come vuoi ecco ne starei assolutamente alla larga però comunque l'incertezza è fortissima è vero potrebbe sparare da una parte o dall'altra quindi questo da un punto di vista di percezione ci viene da pensare un guadagno veloce piuttosto facile ricordiamoci sempre anche il rovescio della medaglia ovvero che prendere una bella stringa per usare un eufemismo finanziario che non ci dimenticheremmo facilmente spostandoci diciamo da una situazione di sentiment a una situazione grafica anche qua ricordiamo che per ragioni tecniche ci stiamo basando su un future trimestrale e come tutti gli altri future la terza il terzo venerdì di marzo andrà a scadere quindi per una qualsiasi strategia in opzioni si dovrebbe andare a ragionare fondamentalmente sulla scadenza di giugno che come vedete anche dalla frammentazione del prezzo è ancora totalmente illiquida e visto che giugno come scadenza andrà proprio a materializzarsi verso la fine di giugno questa scadenza andrà a coprire bene o male tutta l'epoca di quella che dovrebbe essere la brexit quindi ne starei lontanissimo da questa scadenza per le ragioni che vi ho appena descritto se poi sì dobbiamo vedere anche un po' i paradossi di quello che è il mercato ricordiamo che stiamo parlando di un contratto che è riferito alla sterlina dollaro quindi quello che era chiuso come gbp non ha niente a che fare con l'euro ma è basato proprio sul rapporto sterlina dollaro infatti la quotazione è di circa 1,33 e il movimento che deve fare la sterlina per apprezzarsi è verso la rialzo come lo stiamo vedendo e a livello di volumi ci sono sono forti quindi non è solo una sparata frutto della speculazione ma sembra che proprio questo ritorno verso 1,35 che è ancora un po' lontano però piuttosto fattibile è anche diciamo sopportato da volumi in media più elevati che comunque danno sempre quella garanzia in più che il trend che sia rialzista sia ribassista sia un trend consolidato e non solo frutto di speculazioni quindi non vedo ancora alcun segnale di una potenziale inversione però ripeto siamo troppo in balia di eventi di natura diciamo di mondo reale per andare a impostare un trade sta di fatto che andando a prendere il future di marzo che diciamo è nato da metà dicembre più più o meno quindi racchiude un po' il finale del 2018 con la ripresa il flash crash che c'è stato sulle valute che lo vediamo anche qua e tutta la ripresa siamo in un'area volumetrica piuttosto scarna perché il titolo qua non c'è mai arrivato nell'ultimo trimestre quindi il baluardo volumetrico si fermava di solito circa l'1,32,50 tutto questo è terreno inesplorato e quindi abbiamo visto che a prescindere delle valorizzazioni che deve esserci sempre un rapporto anche con il forex perché non è che il future può andare a 1,35 il forex 1,33 tendenzialmente a livello volumetrico c'è un'ulteriore spinta a rialzo quindi questa è la mia valutazione Andrea giusta l'analisi ma a livello operativo mani legate ok perfetto grazie mille Stefano tra l'altro comunicazione di servizio per chi lavora con le opzioni centrata l'operazione impostata ieri sull'oro quindi quando siamo andati a creare il nostro bullbook ma poi lo vedremo anche nei vari laboratori ci sarà tempo io vi ringrazio per l'attenzione vi lascio tra un'oretta con il laboratorio operativo in spread trading su commodities e vi auguro una buona cena nel frattempo ciao a tutti ciao grazie a tutti